disegnatore, illustratore di libri antropologo camminatore, esperto di letteratura di viaggio di Asia Centrale eravamo rimasti la settimana scorsa appunto quando tu hai vissuto questo decennio in Inghilterra questo decennio britannico che è stato forse da un punto di vista 18 anni? allora accadesco, quasi più di tre illustri da un punto di vista del tuo impegno diciamo di disegnatore forse il momento più alto della tua carriera le grandi opportunità che ti potevano dare le case editrici in lingua inglese, ma poi tu hai continuato nella tua vita sempre a cambiare, a fare cose nuove, cose diverse, cose stimolanti quindi ad un certo punto hai deciso di tornare in Italia perché ti sei stato chiamato per un importante incarico e oggi parleremo dell'Italia parleremo poi della tua vita a Malta perché Giovanni ha vissuto anche diversi anni a Malta e parleremo anche del grande viaggio di esplorazione che Giovanni fece in Cina, nel deserto del Taklamakan quindi per arrivare poi a Bibbiena dove li siete tutt'ora allora Giovanni, come tornaste in Italia? la storia comincia quando De Agostini De Agostini di Novara mi cercò in Inghilterra per realizzare la grafica dell'icrante Atlante di Agostini che erano a fare c'erano quasi a 20-30 kg un Atlante mondiale e l'autore di questo responsabile scientifico di questo di questo grande Atlante era Eugenio Turri grande geografo di Veronese e così lo conoscevo l'avevo conosciuto probabilmente alla De Agostini andò in Italia ma poi venne a Londra e si mise diciamo nella linea di montaggio tutto questo immenso lavoro con un grafico inglese molto bravo e io insomma che decidevamo pagina per pagina come doveva andare questo come doveva camminare questo Atlante e nelle conversazioni scoprì il fatto che questo Eugenio Turri era oltre ad essere un geografo un grande geografo geologo era un grande poeta era l'unico l'unico poeta che riuscìva a fare la poesia della geologia perché la geologia è una materia molto un grande esperto di paesaggio un grande esperto di paesaggio conosciuto da tutti gli urbanisti e io da antropologo mi interessava mi curiosivano località del mondo insolite e poco conosciute allora trovavo che il centro dell'Asia era praticamente vuoto vuoto di conoscenze nostre perché in parte era l'unione sovietica la parte meridionale dell'unione sovietica quella era il turkestan sovietico e di là c'era dalla parte cinese c'era il turkestan cinese queste zone sono ancora oggi poco note l'uzbekistan il turkmenistan il kazakhistan il kirghizistan tutti i ortiistan che sono chi è questa gente e questa gente sono quelli meglio conosciuti da noi come tartari come nome non è che siamo si conoscono i tartari come nome e i tartari erano anche diciamo c'è una filiazione con noi perché i tartari della Crimea erano stati rimandati via dalla Crimea perché durante le conquiste di Gendiskan questi questi usbechi erano schieranziati in Crimea e siccome erano musulmani potevano essere presi come schiavi allora Firenze Genova e Venezia prendevano queste persone in più che crescevano e li schiavizzavano li vendevano come schiavi nei mercati cioè 300 e 400 questi disgraziati venivano venduti come schiavi in Italia e molti fiorentini sono di origine di quella origine lì perché sono figli di questi schiavi dei tartari e si riconoscono questi quando il bambino nasce ha una macchia bluastra al fondo alla schiena che poi sparisce nel crescere ma è il marchio mongolo proprio che c'è anche il mio nipote americano inglese il mio nipote inglese è nato con questo marchio perché la madre della mia prima moglie era fuori d'origine era una mandaria di glassina che erano tipici schiavi che venivano venduti nei mercati fiorentini per fare anche i contadini comunque mi interessava conoscere questa zona vuota dell'Asia centrale e così realizzammo l'estatlante e poi dopo si tenemmo in contatto con con Turri a un certo punto nel 90 quando erano raggiunti io avevo diciamo iniziato una serie di libri di viaggio e lui mi disse io l'università di Padova è stata invitata dall'università cinese del Turchestan cinese di Urun ci sarebbe nel centro della Cina occidentale per fare un'esplorazione di questo deserto che sta fra il Tibet e la Siberia a nord del Tibet c'è questa padella di deserto che ha una forma ovale lungo 900 km per 400 km di larghezza circondato dalla via della seta e là si divide in due e poi si ricombina alla fine del deserto è come un grande occhio l'ambito della via della seta nord e della via della sud è lungo questa via della seta ci sono città stato tante città stato città che hanno una lingua diversa che avevano che avevano ancora sono turcopoli sono sotto la Cina la Cina sta cinesizzando e stanno organizzando un mare di campi di concentramento di rieducazione di questi popoli fra le realtà cinesi che hanno un aspetto più europeo che cinese ma parlano un dialetto turco di questo abbiamo però parlato già in un punto dei precedenti che abbiamo affrontato questo grande viaggio specificamente con questo viaggio però mi forse a fare tante ricerche allargare ricerca di questo sulla sulle funzioni storiche che ha avuto questo popolo insomma a parte la schiavitù eccetera ma e andai nel 91 dopo essere stato per questo giro andai nel 91 andai in Grecia nelle montagne della Grecia nel nord a cercare i valacchi i pastori valacchi con la con la diciamo con l'idea di trovare se ci fossero state le affinità tra i valacchi e questi popoli dell'Asia Centrale che era una cosa molto nessuno se ne immaginava che ci fossero io invece non lo immaginavo per motivi vari perché avendo conosciuto il mio professore di archeologia a Londra chiamiamolo così un mio coletaneo ma è un professore che diceva che tutti i pastori dell'Eurasia sono della stessa stirpe e della stessa cultura tutti i pecorai diciamo non quelli che si occupano di pecore non quelli che si occupano di avalli ma quelli di pecore quindi dalla Sardegna a Portogallo alla Cina si presumeva lui presumeva che questa gente fosse della stessa una stessa cultura materiale anche se non parlavano più la stessa lingua comunque il fatto è che i valacchi dei 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 Balcani insomma sono quelli che hanno dato la lingua alla Romania no? c'erano fino fino al nord fino alle Alpi di Nariche ci sono questi valacchi gruppi diciamo tribù di valacchi che parlano una lingua una lingua neolatina e infatti andai andai in Grecia mi facevi un gran giro del nord della Grecia e andai e quando io rimasi sorpreso quando vedi che nella sala di riunione dei pastori di questa cittadina di Mezzopo a Mezzopo nelle montagne del Pindo la sala era era identica alla sala dei pastori dell'Asia Centrale c'era proprio un'affinità anche loro facevano tappeti come i pastori dell'Asia Centrale e avevano lo stesso tipo di bastoni eccetera molte cose erano simili ma soprattutto la sala di riunione era proprio fatta come con dei sedili attorno e un focolare alla fine di questa sala che aveva una forma proprio persiana con la punta sopra così e il sopolare proprio eravamo persia insomma praticamente nel mondo palacco e allora ci si collega e ritorna alla mente i massageti gli alani eccetera questi pastori che accompagnavano i goti nell'invasione barbarica insomma e che riempirono anche d'Abruzzi erano vuoti completamente dopo le guerre gotiche insomma è tutto un sistema antropologico che ho scoperto nel fare questo viaggio comunque poi io mi si a studiare sul serio queste cose e quando quando ci fu la crisi del libro cominciò la crisi del libro alla Giunti e io nel 93 chiusi proprio il mio ufficio chiusi perché non c'era più vendita di libri non si riusciva più a vendere il libro illustrato non c'era questo mercato internazionale il computer aveva distrutto tutto l'arrivo di internet aveva terminato nel 93 c'era già internet si 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 c'era internet comunque finì il libro illustrato e io di no a farne qualcuno e andai cioè finimmi i contratti con le giunti andai su in una in una villa una villa rurale una villa che una volta c'erano i possibenti terrieri che avevano questi poderi su dietro fiesole dietro in alto sul buon del piano e mi inizi a scrivere sui viaggi che ho fatto in Egitto per esempio e su queste cose qui e nacquero a quelle epoca lì nacquero i due ragazzi miei Ken e James e nacquero questi ragazzi e lì andavano a scuola già dall'asilo infantile andavano all'asilo e tornavano a casa sempre con l'influenza avevano mal di gola e io non ce la facevo più perché stava malato uno e guariva l'altro che era guarito si ammalava una situazione insostenibile io voglio quando c'è dei problemi così voglio risolverli allora il medico mi disse perché non vai e li porti in un'isola in mezzo al mare questi ragazzi perché se te vai in mezzo al Mediterraneo per il Mediterraneo passa tutto e io andai a cercare dove potevi andare se pensavo non da Sicilia ma a un posto dove si parlasse inglese per le Canarie oppure un altro cipro oppure Gibilterra forse così e capitai a Malta e mi dà a Malta e Malta e dici ah questo è un paese è una nazione c'è l'università tutto c'è un'unico anche per essere in picco c'è tutto c'è una grande università importante inglese no le scuole inglesi e tutto è uno stile di vita diciamo piuttosto anglicizzato sembrava il posto ideale e io feccio un appartamento e mi si là e continuo a fare libri saltuariamente anche per gli inglesi e per italiani per De Agostini per esempio per Mondadori continuo a fare queste cose qui e scoprì diciamo il Mediterraneo questa parentesi maltesi è stata molto interessante perché Malta pur essendo piccola è sempre stata al centro del Mediterraneo e poi come sapete è stata come dire teatro di eventi di ogni tipo storici culturali religiosi i cavalieri di Malta voglio dire sono sono parte della nostra fascinazione un mondo straordinario concentrato in una piccola isola lunga mi pare 35 km sbaglio ma che 35 km sono 19 km io ci sono stato sono anche 29 ci sono stato solo due volte a Malta ma mi ricordo questa cosa scusa la dico perché il senso dello spazio dei maltesi era molto differente dal nostro e il nostro era diverso per esempio dal nostro statunitense perché mi ricordo che andai nell'isola di Gozo che appunto dista 10 minuti di traghetto e quando parlavo con questi maltesi che parlavano in italiano insomma che capivano l'italiano mi dicevano ma sì io sono stato a Gozo nel lontano 85 ma è lontanissimo ci vuole un sacco per andarci io li guardavo quindi erano come isolati mi chiusi dentro quest'isola e non avevano il senso dello spazio che abbiamo noi che possiamo andare dove ci pare a parte ora col covid quindi sì no ho scoperto molte cose per esempio lì si parla una lingua che è semitica è una lingua araba con però molti vocaboli italiani e questi vocaboli italiani non sono siciliani come uno potrebbe pensare perché ma veneti quindi perché veneti perché la lingua franca del Mediterraneo era molto molto veneta e genovese perché la lingua franca si riferisce a Zabir Zabir che nasceva dentro catalano veneto napoletano era una lingua franca che per ieri sempre si era parlata ma il Maltese ha queste intrusioni diciamo veneziane per esempio la chiave da ciavetta poi non so tante cose così il giugarell il giocattolo cose soprattutto la nomenclatura del giardinaggio era veneta però la nomenclatura dell'agricoltura era araba quindi il giardino è una cosa che ha a che fare con la villa che ha il giardino eccetera e allora c'era c'era l'influenza a Valletta c'era l'influenza genovese non è che parlassero genovese ma comunque ma il fatto è questo che c'era questa importante università e io volevo avvicinarmi all'università per vedere se c'era qualcosa perché io studiavo l'Oriente ormai mi avevo affascinato l'Asia Centrale perché continuavo a studiare l'Asia Centrale con una biblioteca universitaria abbiamo tutti libri a disposizione allora incontrai nel pub del villaggio dove abitavo St. Paul's Bay un americano un antropologo americano nel pub e lui mi disse perché non vieni ti faccio conoscere il lettore dell'università vediamo se c'è una posizione che tu puoi avere nell'università e andai e incontrai questo Saracino Inglot un filosofo che aveva studiato all'università cattolica di Milano e in Inghilterra era diciamo metà irlandese e metà maltese e io gli raccontai un po' di queste cose che avevo scoperto in Asia a questi discorsi affascinanti di questa gente di queste genti dell'Asia centrale e lui rimase ancora più affascinato di me e disse guarda perché non io ti do la chiave tu ti metti in questo studio mi dite una stanza e fai le tue ricerche e poi ci racconti fai delle lezioni e parli agli studenti di queste cose che sono cose molto interessanti allora io ho fatto allora io preparai un corso di lettura del paesaggio no? perché era tutto basato sulle geografie insomma questo discorso nostro era molto sulla geografia e sull'antropologia sulla geografia antropologica e feci questi studi sulla Toscana su un paragone in un studio parallelo Toscana e Malta e scoprì cose molto interessanti anche per Malta perché non avevano idea di essere perché di pregiudizio li obbligava essendo cattolici molto cattolici molto che non avevano idea non si rendeva conto di parlare l'arabo la gente comune non sapeva di parlare l'arabo però sapeva che si andava in Libia nel nord Africa si arriva poi hanno sempre avuto rapporti tutto sospetti con la Libia se non per l'età commerciale insomma quindi questo questo posto questo luogo centrale del Mediterraneo ti fa capire un po' il Mediterraneo stesso che è una terra che è un mare che divide non è un mare che unisce perché fra il nord del Mediterraneo e l'Africa c'è una barriera insommontabile e non è solo l'Islam che divide diciamo i cattolicesi capito al nord c'è il cristianismo al sud c'è l'Islam ma non è quello lì la divisione la divisione del Mediterraneo parte dall'antichità più remota perché i persiani i mercanti persiani avevano tutti i fondaci tutto lungo la costa dell'Africa e nel nord del Mediterraneo invece c'erano quelli che conosciamo i greci gli italiani francesi e spagnoli insomma quindi è una divisione insommontabile non è possibile unire il Mediterraneo infatti gli scontri che ci sono oggi nel Medio Oriente sono dovuti proprio a questo punto cruciale di questa divisione che ricausa il monoteismo il monoteismo è una calamità per la cultura per se fossimo se fossero stati ancora pagani non ci sarebbero stati queste quelle mi sembra abbastanza chiaro storico a Rari in questo suo libro sull'ordine del mondo una cosa sì che noi non diciamo mai perché chiaramente l'Europa non lo può dire un mondo contemporaneo ma in realtà il monoteismo è molto più intransigente ed escludente diciamo per usare un termine contemporaneo del politeismo e comunque no è una cosa molto difficile dire ipotizzare cosa potrebbe succedere se fossero rimasti fossero rimasti politeisti invece Malta era ed è adesso un po' meno ma insomma una isola profondamente religiosa profondamente cattolica a livelli proprio di fanatismo diciamo profondamente superstiziosa su un cattolicesimo superstizioso sì la versione superstiziosa è il cattolicesimo però affascinante scusa io una volta sono capitato lì per Pasqua processioni incredibili che da noi sono scompatti da un secolo io non voglio giudicare la gente ma comunque è molta epofesia è lo stesso Soracino Ingrotto il professore il lettore di Miseradice che qui vige diciamo la mentalità araba domina perché i maltesi sono una cozzaglia di gente da tutto il Mediterraneo che i cavalieri di Malta accettarono affinché si convertissero al cattolicesimo quindi gli ebrei della Spagna gli ebrei dell'Italia gli ebrei arabi gli ebrei arabi di Libano eccetera arrivano tutti a Malta perché erano perseguitati nei loro paesi e qui convertendosi al cristianesimo diventavano maltesi era una sorta di Portofranco come Livorno come Salonicco insomma di area dove queste persone svilupparono loro con me tra i cognomi invece sui cognomi c'è anche un'unità col sud della Sicilia Camilleri o Camilleri è un cognome anche maltese no? no perché la Sicilia era maltese parlava maltese prima che fossi italianizzata dai da Federico II ah tu dici nel sud certo perché Lentini la scuola di Lentini e portarono l'italiano in Sicilia se no di Sicilia parlava maltese nel senso la lingua maltese è un risultato che faceva parte della Sicilia a Malta perché poi se non vanno in Rati come viene di Malta arrivano a Malta scappando da Rodi no? quindi sono arrivati più tardi di quello che si portarono questa città vittoriosa poi la valletta fu progettata da un cortonese da un allievo di Michelangelo disegnò la città ideale quindi la valletta ha una pianta che è una città ideale greca proprio con gli spazi della Gorà gli spazi tutte l'impostazione a scacchiera no? è stato un arricchimento molto importante sette anni a Malta e i ragazzi sono cresciuti i miei figli hanno fatto le elementari in inglese hanno imparato anche in maltese naturalmente e ora all'età di uno trentadue anni uno c'ha trent'anni uno trentadue 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 sono tutti due a Malta sono tornati a Malta sono tornati a Malta si trovano bene economicamente anche economicamente perché sapete da quando Malta è entrata nell'Unione Europea non mi ricordo quanti anni sono infatti si sono abbassati i prezzi dei prodotti che prima erano molto alti ma soprattutto Malta è diventata una sorta di trampolino di lancio per quelli che vogliono entrare in Europa a volte anche in maniera un po' così approssimativa però è piena di aziende molti brand hanno sede lì arriva gente c'è molto movimento poi soprattutto c'è un casino importante anche l'aspetto turistico però anche l'aspetto proprio di aziende che pur di essere in Europa entrano da Malta quindi ci sono i soldi che girano a Malta ci sono anche tentativi della mafia di impossessarsi di Malta ma esiste la mafia maltese si sa certamente c'è la mafia maltese che è raggiunta anche il governo quella giornalista che uccisa sapete il caso della giornalista uccisa insomma si sembra che si sia usato in mezzo e a volte propongono cose veramente per noi paradossali tipo appunto per unire le due isole in mezzo al Mediterraneo che per le quali basta come dire raggiungerle cioè si raggiungono l'uno dall'altro con un dieci minuti di traghetto volevano fare un tunnel che aveva un corso spropositato che sinceramente non si capisce qua ma con la servizio perché un discorso è un tunnel che collega sulla Gran Bretagna al continente è un tunnel che collega le isolette cioè forse conviene a fare un ponte a quel punto lì perché è così rovinato sono 90 chilometri da Pozzano a Malta no ma mica lì il tunnel le due isole le due isole ah fra le due isole fra le due isole sì sì quanti chilometri saranno saranno su 5 chilometri di mare ma nemmeno no no sono 6 chilometri comunque per dire che ecco quindi Malta è interessante perché appunto per questa posizione anche l'università di Malta poi Malta voglio dire dopo la parentesi napoleonica è diventata inglese no quindi anche anche le parole inglesi sono nel maltese ci sono temi inglesi come ci sono tradizioni inglese parlano tutti l'inglese la lingua ufficiale è quella lì mi pare che hanno raggiunto l'indipendenza intorno al 1660 martesi nel 63 nel 63 quindi hanno anche certe rigidità ci sono ancora tutti in Valetta c'era ancora questi negozi no proprio inglesi per i marinai c'era anche una mensa marinare è diventata un sito ristorante ma insomma è un'isola che è nel posto sbagliato perché con i gusti culinari per esempio hanno lo stesso gusto culinario che si può bere un casentino nel nord dell'Inghilterra a Whitby sui mari cosa mangiano a Whitby? sì mangiano la pizza con i pizzelli congelati ecco io ho scoperto che il piazza nazionale maltesi non è il pesce ma pensate un po' è il coniglio alle erbe è la feccata è il piano di conigli selvatici e il coniglio si chiama Fenech che è il nome di una volpe nel deserto e questo questo coniglio viene cucinato bene viene arrostito però ci mettono una salsa artificiale che lo rovinano veramente ma allora è una salsa di erbe dell'isola dicono però io l'ho mangiato l'ho mangiato nella sede del partito laborista perché facevano un ristorante ci sono degli ambienti molto belli dei club dei circoli delle bande è un posto ora non so io sono stato alcuni anni fa antico che ha un certo fascino i maltesi sono molto tradizionalisti cioè sono molto legati ai fuochi d'artificio le processioni le celebrazioni della settimana il collante di persone che vengono da tutte le parti sono le feste le feste che possano combinare in comune e allora sono collanti sociali allora dopo Malta con Malta che anno arriviamo sono state 8 anni a Malta si che anno sei andato venuto da Malta 95 nel 95 hai deciso di venire via da Malta perché forse ti stava stretto si stava un po' stretta no nel 95 sono andato a Malta sono tornato nel 2001 nel 2001 nel 2001 si sei anni a Malta sei anni a Malta si però è stato importante perché ho fatto c'erano dei rapporti con l'UNESCO per cui sono diventato un po' insomma diciamo parlavo con i rappresentanti dell'UNESCO e con il governo martese insomma poi c'erano tentativi anche di Malta di essere il centro culturale del Mediterraneo e io prospettavo l'idea e l'ho portata l'idea di unificare i libri di scuola elementare di tutto il Mediterraneo stamparli a Malta e poi ognuno dovrebbe farlo in la loro lingua non in lingua ma cercavo di unificare perché solo così si può unificare il Mediterraneo insomma facendo delle cose in comune specialmente l'educazione ma ho molta ostilità perché io sono riuscito a mettere allo stesso tavolo palestinesi ebrei e giordani e che sono gente di tutto il Mediterraneo di metterli insieme tra i turchi i turchi gli ebranesi insomma mettere tutti intorno al tavolo e accordarsi di fare di fare questo tentativo di unificare i libri di scuola però ognuno ha la sua visione nazionalista si voglia dividere addirittura è più facile dividere la gente che unigla perché anche l'Eugoslavia ho avuto a che fare anche c'era la guerra in Eugoslavia mentre c'era ancora dei problemi in Eugoslavia quando ero in Malta allora c'erano rappresentanti delle nuove nazioni di Eugoslave che ci tenevano molto a essere divisi non ci tenevano per niente a essere separati lì però forse nei Balcani c'è il problema che prima forse anche l'impero austro-ungarico ma soprattutto Tito ha spostato piccoli gruppi di etnie creando le situazioni finché c'è stata una sorta di dittatura non allineata di Tito ma poi la sostanza e la divisione delle nazioni dell'Eugoslavia è religiosa la divisione quindi la religione divide tutti perché ora la 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 i popoli di popoli di tutti i tipi però gli altri sono ortodossi o cattolici o se no o se no musulmani come la Bosnia ecco allora nel 2001 sei tornato in Italia e come hai deciso di venire qui a Bibbiena c'è un discorso che parte dal fatto delle strade perché studiando la la sua centrale ho studiato la via della seta e ho ricollegato alle mie prime idee inglesi di ricreare il sistema circolatorio della civiltà mediante le strade le arterie proprio no e allora sono venuto in Italia e mi ero occupato della via francisiana quando ero ancora andato in Inghilterra poi qui è venuta fuori l'idea che il passo di Serra che porta la via Romea attraverso il Calentino per andare a Roma dalla Germania mi sono messo a promuovere questa viabilità della via Romea che parte dal nord dell'Europa passando il tempo si è diventato sempre più storico antropologo appassionato di paesaggio di transumanza di tutte queste cose qua che è elaborata attraverso anche i disegni di studi poi ho scoperto che il Calentino è terra non chiusa ma terra di passaggio terra di transito ecco per chi non lo sapesse il Calentino è l'alta valle del fiume Anno quindi una delle quattro valli della provincia di Arezzo confinante con l'Emilia Romagna confinante con la provincia di Cesena e quindi l'Arno nasce dal monte Faldrona poi curva torce il muso come dice tanto ieri agli Aretini e va verso Firenze e il Calentino se posso permettermi vorrei fare un parallelo in fondo è come Malta perché è alla stessa dimensione di Malta e apparentemente è un'area chiusa ma in realtà non lo è perché poi è sempre stato un punto di passaggio la Romea tedesca teotonica cioè quella che viene da Stade che si incontrava con l'altra che veniva sul sud dell'Inghilterra e si incontrava al lago di Bracciano no? e poi andavano a Roma e altre strade altri passaggi appenninici perché appunto c'erano i passi appenninici ma il fatto di cosa della la transumanza che le pecore le migliaia di pecore che erano a pascolare nell'estate nel sull'adriatico sull'adriatico sulla parte adriatica dell'appennino eccetera che era molto pecore che produceva della buona lana dell'ottima lana dovevano spostarsi verso il terreno tutti gli altri inverni no? allora queste transumanze hanno creato delle viabilità attraverso proprio queste montagne dell'appennino attraverso attraverso l'appennino e attraverso il prato magno quindi l'appennino non divideva anzi univa perché no univa anche perché la percezione del territorio delle civiltà antiche come qui per esempio qui c'erano le suschi anticamente ora non ci sono più no? ma c'erano le suschi in questa zona perché questa lingua c'era c'era diciamo coagulata attorno a Monte Falteruna era la montagna l'unità territoriale degli antichi non era la valle allora il casentino è diviso etnicamente anche dalla parte dell'appennino la parte del prato magno e la parte del Falteruna queste montagne questi gruppi montuosi sono zone culturali anche ancora oggi per esempio le capanne le capanne del prato magno sono quelle delle Alpe Apoane mentre le capanne del casentino dell'appennino sono come quelle dell'Umbria quindi c'è delle influenze umbre quelle del prato magno sono rettangolari sono come per i maremane sì sono le stesse montagne che sono nelle Alpe Apoane e quindi il prato magno è una continuità delle Alpe Apoane da Pistoia in qua e questo anche linguisticamente si trovano questi legami quindi si capisce proprio per la valle la divisa da questi gruppi la divisa in gruppi molti gli spostamenti c'erano ma poi erano anche complessi quindi quando i contadini stanno fermi i pastori si muovono ma i contadini stanno fermi e stabiliscono tradizioni loro nella loro area e le loro aree sono le parrocchie le diocesi insomma per cui l'unità territoriale una cosa che tu dici sempre l'altro giorno è stata confermata è stata anche virtualizzata nella trasmissione di Alberto Angela quello che possa servire ma insomma voglio dire è molto seguito e lui diceva appunto che una delle aree dove c'è maggior numero ancora di suffisse etruschi nei nomi nelle località è proprio il Casentino si si il fatto delle itoponi la toponomastica come i itoponi i liguri che arrivano fino a fino al Veneto insomma dal Veneto tutta la Lombardia ci sono toponi e i liguri che terminano anche se poi sotto l'impero romano il Casentino era nella regione Umbra era consigliato no quello lì era un errore di tutte le carte geografiche non era da parte Umbra era da parte etrusca dell'Etruria ma è un'interpretazione errata di un passo di Plinio per un'interpretazione sbagliata medievale perché il nome Casentino era i toponimi diciamo la densità di toponimi di Casentino è tale che proprio questo è il posto dove si parlava etrusco inizialmente poi questo etrusco si è diffuso a tutta la Toscana in virtù di questo passaggio continuo tra i villanoviani della della bassa Romagna e villanoviani della Romagna tu dice io pensavo che i etruschi si fossero come dire sviluppati in aria vicino al mare nella Tuscia invece tu dici che il punto iniziale di sviluppo di etruschi è Casentino sono venuti dal nord quelli che poi parlavano di etruschi e poi dovevano diventare etruschi sono molto affini alle popolazioni dell'Austria del bronzo e del primo ferro della Salzac e sono in Villanoviani si chiama Villanoviani da un sito vicino a Bologna e questi parlavano già etrusco nella parte dell'Appennino alla parte di Bologna dalla parte da parte liminese e infatti il re di Rimini la tradizione greca come Pausania dice che il re di Rimini a Riminus questo re di Rimini etrusco fu uno dei primi donatori a Zeus di a Zeus di Olimpia il santuario di Olimpia donò una grande una grande sedia diciamo un seggio ecco un seggio reale che ancora si trova a Berucchio fanno si trova famoso allora avviandoci verso la conclusione di questa puntata penso dobbiamo anche un po' fare situazioni cosa significa per te vivere cosa ha significato cosa significa vivere in Casentino perché anche qui hai avuto grandi opportunità di capire cose che avevi postulato magari quando eri in Inghilterra prima di andare in Inghilterra venivano sempre in Casentino perché era una zona ricca di elementi etnografici di permanenze diciamo c'era la treggia per esempio c'era la garazzo ecco questo è molto interessante la treggia è una sorta di rimorbo un elemento identitario stranissimo interessante e io ci ho fatto le tesi su queste cose infatti è vero che qui c'è una tesi da copiare da digitalizzare e sono pagine e pagine cioè c'è la treggia e la slitta e si dividono i confini dell'Appennino la slitta è una sorta di rimorbo appunto su questi binari paralleli molto pesante la treggia bisognerebbe far vedere un'immagine è molto agile viene usata nelle aree di montagna era molto sì il nome suggerisce il nome che sono in grecia insomma che i linguisti le collegano e vuol dire è uno strumento che serve il trasporto al trasporto su terreni sassosi invece la slitta su terreni imposi io pensavo che treggia venisse da traere da tirare da tirare no venne da trachea trachea che è una parola greca che vuol dire sassi c'è anche una cittadina che si chiama trachea in grecia comunque insomma girando in sostanza cosa ho fatto sono la cina la grecia quello e quell'altro l'egitto mi sono fatto un'idea e diffuso anche questa idea di cosa è l'umanità di cosa è la cultura perché ho comunicato anche con Cavallis Forza quel professore il grande genetista come è la natura umana se la natura umana è nomade oppure stanziale lui diceva che conveniva sul fatto che la natura umana è nomade perché ci piace anche non andare in vacanza viaggiare siamo tutti disposti però quando si ferma ci piace anche sta comodi fermarsi diciamo che all'inizio era costituita da raccoglitori cacciatori e poi eventualmente ha prevalso l'aspetto istanziale portando tante problematiche oltre che opportunità anche tante problematiche una delle quali sono le pandemie che prima non c'erano la velocità con la quale si è diffuso questo virus ti illustra proprio il fatto che siamo tutti collegati anche alle isole più remote dell'Oceano Pacifico c'è lo stesso virus perché c'è la gente che va in vacanza da Londra da New York dall'Alifornia e prima invece rimanevano molto localizzate ecco ma quindi in conclusione di questo nostro appuntamento del venerdì cosa ci puerà dire cioè adesso quali sono i tuoi interessi cosa stai studiando cosa ti stai interessando continuo a occuparmi della viabilità perché io sostengo sempre che quello che può unire i popoli è quello di camminare di andare a piedi da un paese all'altro e io ho fatto anche una che si chiama una chart una carta una specie di costituzione per il diritto di camminare attraverso le frontiere dei camminatori a volte non basta cioè non è necessario basta trovare una rete una proprietà privata e già non cammini tu anche se sono strade magari vicinali in sostanza uno capisce che la gente è divisa dal pregiudizio e non dai fatti reali allora per abbattere i pregiudizi bisogna conoscersi allora la rete di vie pedonali che si sta costruendo in Europa è uno strumento per la pace l'unico strumento che abbiamo per la pace ecco finiamo con un bel messaggio di speranza conoscersi per non odiare conoscersi e anche attraverso come dire non solo il lavoro la famiglia la patria ma anche attraverso il turismo la voglia di incontrarsi di condividere le cose di comprendere gli altri e speriamo anche ora questo fine primavera questo inizio d'estate di poter riprendere a viaggiare come ci racconta anche è l'uomo un nomade quindi se si ferma è perduto io sto cercando di trovare un accordo con i cinesi addirittura sei coraggioso perché i cinesi ormai impongono gli accordi loro a tutti gli altri però culturalmente ancora si bisogna usare il metodo cinese fargli credere una cosa e poi fregargli la classe grande stima le cinesi bene i cinesi sono quelli che costruiscono il numero più intenso la più intensa rete di ampi di consensamento per tenere i paesi insieme ho capito allora con questo speranza di poter andare a fare un'altra esplorazione in Cina una terra meravigliosa io sono stato una volta ma come turista e sono arrivato fino a Xi'an e mi ripartivo la via della seta ma lì mi sono fermato perché comunque io vorrei continuare a fare queste cose sul fatto dell'unità sul fatto della viabilità anche Arezzo come centro importante della viabilità medievale era un centro importante poi è stata tarpata da Firenze Firenze ha presi sopravvento è diventata la dominante tutta la Toscana Arezzo era una città nel 1200 la più importante di Firenze e c'era verso centro del Pionta da veri campanilisti diciamo cioè se sei più fiorentino io sono casentinese non sono aretino però in realtà le sorti da battere Campaldino dove appunto i fiorentini vinso anche con Dante Alighieri Feditore eccetera si è scoperto che non sono state così certe potevano benissimo vincere gli aretini gli aretini peccarono di presunzione come spesso capita a loro perché attaccaro così fortemente così in profondità che furono circondati diciamo perché erano un popolo chiaramente di guerrieri di cavalieri mentre i fiorentini erano un popolo di bottegai di commercianti che avevano voglia di vincere questa guerra e poi ritornare è un conflitto proprio di epocale insomma di conflitto culturale proprio della base che da una parte ci sono quelli che vogliono i pedaggi che tu paghi i pedaggi e da quell'altra ci sono i mercanti che non vogliono che tu riscolta i pedaggi è chiaro che doveva vincere per forza Firenze perché Firenze era apprezzata nel futuro adesso era rimasta ancora al passato bene con queste belle parole di Giovanni Caselli noi vi ringraziamo ringraziamo Stefano Pomma del Caffè che ha reso possibile questo collegamento e ci vediamo magari prossimamente per nuove riflessioni sulla contemporaneità in compagnia di Giovanni Caselli e Francesco Maria Rossi grazie e buonasera grazie 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 grazie